Musica Ed eccoci alla seconda parte del dopo partita, abbiamo salutato oltre al presidente Lorenzo Spagnoli dell'Imonese anche Gigi Ravaglia che ha dovuto scappare quindi non sarà con noi in questa seconda nella terza parte che sarà comunque brevissima perché la palacanestro va via via terminando e invece sarà giunto il presidente di diffusione Sport Pasquale De Simone, ben arrivato ma prima di parlare con lui dei suoi progetti ogni tanto viene a trovarci, andiamo a vedere questo video Sono le ragazze della scuola di Pantolo di Fusione Sport di Limola Dai, raccontateci, dobbiamo sapere tutto Oh è stato bellissimo, dai ripete Abbiamo visto tante campionesse, tutte quelle che vediamo in tv Io ho perfino palleggiato con Lucchetta Anche a me sarebbe piaciuto essere Peccato non esserci stato Perché non ho? Le grandi ci hanno raccoltato tutto della partita Sarebbe stato bellissimo essere lì Ma come facciamo anche noi ad essere vicino alle campionesse? Forse ho avuto un'idea Mamma, mi interessi, hai qualche soldito? Perché? Per portare il campionesse della Serie A qui a Limola Certo Mamma, stanno raccogliendo il più soldi per portare il campionesse di Pallavolo a Limola Oh, bell'idea Guarda Rita, abbiamo raccorto tutti questi soldi Ma ci servono molti di più Rita, ma come facciamo a realizzare il nostro sogno? Un modo ci sarebbe Sì, un modo ci sarebbe Potete aiutarsi voi Vai sul sito ideaginger.it e cerca il nostro progetto La Serie A torna a Limola, un torneo di Pallavolo femminile Fai una donazione Ci sono anche tante ricompense Aiutateli a raggiungere il loro sogno Fai una donazione Portiamo le campionesse di Pallavolo a Limola Oh, fine! Adesso ne parliamo con i presidenti di Diffusione Sport Questo è Limola Volley Cup Prima edizione La Serie A torna a Limola Un po' è chiaro comunque il video che avete realizzato Penso in poco tempo Sì, è stata una bellissima esperienza Abbiamo fatto un mezzo pomeriggio Con le ragazzine del settore giovanile Ed è stato veramente molto divertente Quindi annunciamo questo grande evento Questa grande idea Un'idea che ci è venuta In realtà era un'idea che ci frullava in testa Già da qualche anno Perché in occasione del festeggiamento Di dieci anni di Diffusione Sport nel 2015 Tra le possibilità c'era anche L'organizzazione di un torneo del genere Ma non c'era mai creata l'opportunità Adesso grazie alla collaborazione che abbiamo Con il vero volle Monza di Serie A1 femminile E maschile Perché hanno anche una squadra maschile Abbiamo avuto l'opportunità di poterlo realizzare Ma per realizzarlo comunque c'è bisogno di un po' di risorse Una parte siamo riusciti a trovarle E si è presentata l'occasione di lanciare questa campagna Per raccogliere parte di questa somma Che serve per realizzare il nostro progetto Che cos'è appunto idea? Ginger.it Sì, è una piattaforma dove si presentano delle campagne Di raccolta fondi di tipo sociale Dove ci sono associazioni che spaziano in diversi ambiti E anche sportivo Ci sono anche degli esempi di raccolta fondi Per iniziative sportive Che ha lanciato un seminario a Imola Qualche settimana fa Grazie anche alla collaborazione con la BCC Loro hanno creato questo appuntamento con delle realtà del territorio E quindi abbiamo partecipato Ci hanno spiegato un po' come funziona questa campagna E poi chi voleva proseguire Ha seguito un seminario di due appuntamenti E poi presentava un progetto Il progetto è stato poi approvato dalla BCC Quello nostro Perché è selezionato tra i tanti Perché la BCC supporta anche questa raccolta fondi In quanto se noi riusciamo a raggiungere l'80% della somma richiesta Il rimanente 20% lo mette la banca È un progetto che chiaramente all'interno di questa piattaforma Prevede il tutto o niente È una formula che devi cercare di raggiungere questo obiettivo Quindi il nostro lavoro sarà quello proprio di spingere le persone a donare A darci un contributo Contributo chiaramente a cui corrispondono le ricompense E all'interno del sito ci sono riportate Le ricompense del tipo? Allora ricompense del tipo Partiamo da quella più banale Che può essere la t-shirt della manifestazione O la locandina firmata da alcune delle giocatrici Addirittura abbiamo messo una ricompensa Per un massimo numero di 10 bambini Che vogliono palleggiare con una campionessa all'interno del campo Così come chi vuole vivere questa esperienza in un'area riservata Abbiamo creato un'area VIP Tra virgolette E chi dona una certa cifra può accedere a questo tipo di partecipazione Una bellissima idea E lo stimolo dato anche dal piccolo videospot Che è stato presentato oggi È anche portare un po' di grandi campionesse Campionesse a Imola Per poi far vedere a queste giovani Campionesse Esatto Infatti l'idea è nata da lì Lo sport Noi siamo stati per due anni consecutivi Nel 2018 e 2019 Quando a Bologna si sono fatte le finali di Coppa Italia Sia maschile che femminile Le raccattavalle delle nostre bambine Sono state a bordo campo Vicine alle campionesse Solo che purtroppo Ne siamo riusciti a portare solo una ventina Tutte le altre 130 ragazze Tesserate per la nostra società Non hanno avuto questa opportunità Di vederle proprio da vicino Di lì e poi è nato lo spunto L'idea per il video Abbiamo pensato Bene Allora Proviamo a portarle a Imola Vediamo se è fattibile Abbiamo visto che Potrebbe essere fattibile Nel senso che Gran parte della somma L'abbiamo già raccolta Attraverso le sponsorizzazioni Molti sono stati gli stessi sponsor Che ci finanziano durante l'anno Hanno deciso di supportarci Anche per questa iniziativa Ci manca Quel passo in più Quella parte in più Per completare E per coprire tutto il budget Una forma che abbiamo scelto Questa novità del crowdfunding Per noi È un mondo inesplorato Siamo anche Lì Non dico preoccupati Però molto attenti Perché è la nostra prima esperienza Quanto tempo avete per organizzare Che siamo a metà maggio E l'obiettivo è settembre Sì no Ma Diciamo queste campagne Sono delle campagne Non molto lunghe Infatti noi la completeremo Ci sarà il termine Il 31 di luglio E quindi dentro il 31 di luglio Bisogna che questa somma Sia raccolta Quanto siete lontani? Ma Considera che L'iniziativa parte Giovedì E quindi al momento Ancora non abbiamo Non abbiamo raccolta Nel video è un esempio Ancora la raccolta Sì sì no Diciamo che era uno spunto Infatti Quelle raccolte Offline Così le chiamano Serviranno anche per raggiungere La cifra online Perché noi faremo Dei punti di raccolta Durante le nostre manifestazioni E poi il versamento Viene fatto Per questa Finalità E adesso vedremo Cosa succede È una novità Questa forma di raccolta Fondi È da poco Che sta prendendo piede Nello sport Ci sono degli esempi Che hanno avuto successo La cosa da dire Su Ginger Che è l'associazione Che si occupa Della piattaforma Che è territoriale Quindi raccoglie Molti Progetti Quasi la totalità Credo di progetti Legati all'Emilia Romagna E in più Rispetto a delle piattaforme Che ci sono Online Che hanno una percentuale Di realizzazione Del loro progetto Del 20-30% Ginger Ha l'88% Di raggiungimento Dell'obiettivo Per le proprie campagne Quindi loro ci supporteranno Ci daranno una mano Anzi a maggior ragione Proprio perché È la prima volta Che lo facciamo È un tipo di supporto Che è ben gradito Chiaramente anche la BCC Avendo supportato Ci darà Un loro apporto Anche in termini Di comunicazione E siamo fiduciosi Nel riuscire A raggiungere Questo obiettivo Naturalmente Imo la Volley Cup Prima edizione Potrà avere anche Il nome Il trofeo Infatti no Lo avrà Noi già abbiamo preso Accordi con Mc Donald Imola Adesso dobbiamo decidere Avete già trovato Assolutamente Mc Drive Imola O Mc Donald Cup Adesso devono decidere loro Come vogliono chiamarla Il main sponsor Il main sponsor Del torneo Trofeo Quindi occasione Anche naturalmente Di sponsorizzarlo Leggo nella vostra Locandina Anche questo bel grafico Che parla Del pubblico Della Volley Sì È una ricerca Che fanno In genere Il pubblico giovane Beh prevalentemente Giovene La pallavolo È un pubblico Per le famiglie Perché chiaramente I giovani Poi vengono accompagnati Dai genitori Però è sempre stato Nelle varie Nei vari studi E nelle statistiche fatte Un pubblico giovanile Una delle domande Più difficili Presidente Quattro squadre Di pallavolo Vengono a fare Questo primo torneo Chi sono Le quattro squadre No Purtroppo Non lo sappiamo ancora Se non il vero volley Monza Quello 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 Non è ancora possibile Ma diciamo che il vero volley Monza Ha già garantito Altre tre squadre Di Serie A Sì sì Assolutamente Loro si sono impegnati A aiutarci Si sono impegnati Che porteranno Le altre squadre di Serie A Quindi da questo punto di vista Siamo tranquilli Potrebbero esserci Anche le prime Della classe Assolutamente Il vero volley È una delle prime Quindi siccome sarà All'inizio del campionato Quindi in preparazione Considerando che è finito Da poco L'europeo femminile Quindi molte squadre Hanno avuto da pochi giorni Le loro atlete migliori Sarà un modo Per prepararsi Al campionato Credo che Il mio augurio Il mio desiderio È che ci siano Le migliori Però comunque Qualsiasi squadra Della Serie A Che viene Coinvolta In questo progetto Sicuramente È una cosa Bella da vedere Naturalmente È un programma Che si esaurisce In due giorni Sarà sabato E domenica No Sarà infrasettimanale Infrasettimanale Sì perché il sabato E la domenica Le squadre sono impegnate Probabilmente O per la Supercoppa Italiana O perché è più difficile Coinvolgere in questo tipo Al momento Che si esaurisce l'impianto Abbiamo già verificato Le dimensioni Perché poi c'è un problema Anche di canestri Al Palaruggi E non apriamo questo capitolo Perché poi andremo a fare Una discussione molto approfondita E un po' particolare Però siamo riusciti a Verificare le misure Per Limite per Quanto riguarda Un torneo di serie A Femminile Al momento si può fare Probabilmente Al Palaruggi Un torneo di A1 Maschile Potrebbe essere Potrebbe essere difficile Realizzare Per le dimensioni Per le dimensioni Del campo Immagino Che i 2000 posti Del Palaruggi Siano riempiti In entrambi i giorni È un'iniziativa Lodevole Di diffusione sport Prima di concludere Presidente Guardiamo Oltre a questo Bellissimo obiettivo Di cui Torneremo a parlare Sicuramente Questa trasmissione Anche in altre occasioni Come vi state muovendo Finita la stagione Si guarda già Gli eventi A altre occasioni O siete concentrati Solo No, no Questa è una parte Perché come sai Benissimo Difusione sport Si dà da fare Con tantissime iniziative Ne abbiamo una domenica Prossima alla Rocca Con la nostra festa Conclusiva Del settore mini volley E quindi lì Ci sarà Tutta Il settore giovanile Anche chi non è impegnato Nel mini volley Quindi faremo questa grossa festa Anche con squadre Che vengono da fuori Dopodiché Il 2 giugno Ci occuperemo Dell'organizzazione Di un torneo Di sempre di pallavolo Giovanile Per conto della Libertas Però comunque Ci vede impegnati E dopodiché Inizierà il campo estivo Che coinvolge Le nostre bambine Quindi non ci fermiamo mai Ma stiamo già pianificando La stagione prossima Che sarà La prima vera stagione In cui Il vero volley di Monza Metterà Tra virgolette Le mani Perché già abbiamo avuto Degli incontri Con i loro responsabili Mini volley Con i nostri allenatori Stiamoci ricercando Un direttore tecnico Che sarà selezionato Anche grazie all'aiuto E le conoscenze Del vero volley di Monza Di lì poi partiamo Per qualificare Ancora di più Il nostro settore giovanile Che ha dei risultati In provincia E' uno dei settori giovanili Apprezzati Facciamo ancora fatica A raggiungere Qualche finale importantissima Ma come hanno detto I nostri amici di Monza A voi basta poco Quindi vi aiuteremo A cercare di colmare Questo piccolo gap Grazie Pasquale De Simone Per essere stato con noi In questa seconda parte Del dopo partito In bocca al lupo Per l'organizzazione Di questo grande evento Ma anche per gli altri eventi E obiettivi che avete Ne torneremo a parlare Perché se siamo a settembre Speriamo di esserci anche noi A raccontare Prima Durante E dopo Come abbiamo fatto Anche in tutti gli altri eventi Che abbiamo realizzato Noi andate via Ci vediamo per gli ultimi Cinque minuti Tra poco Grazie a tutti